Nella notte tra domenica e lunedì, chiudendo ufficialmente il primo congresso del popolo della libertà salernitano, il presidente indicato dal partito, l'onorevole Sisto, sarebbe stato molto chiaro, annunciando che 29 componenti del coordinamento facevano capo alla mozione russo-ianone cortese, cioè alla maggioranza del partito, riunita sia attorno a Cirilla e Carfagna, ed uno ai giovani dalla mozione a Cocella-Borea. Sisto avrebbe sottolineato l'importanza di un regolamento già adottato in 109 congressi su 129 che garantirebbe le minoranze e quindi la pluralità. A ricordarlo lo stesso Vittoria Cocella, teoricamente eletto nel coordinamento, ma al centro di una contesa con i vertici del PDL, che hanno presentato un ricorso per ottenere l'ingresso nel coordinamento del primo denone elettico e Claudio Pisapia. Secondo russo-ianone cortese, infatti, i criteri adottati sarebbero sbagliati. Di diverso avviso il dirigente nazionale della Giovane Italia. Con serenità attendiamo la convocazione della prima riunione del coordinamento provinciale per partecipare con gioia e serenità alla vita democratica del partito. Alla luce delle dichiarazioni di Sisto, come valuta invece questo doppio ricorso presentato dal PDL contro di lei, contro quest'unico componente di questa lista minoritaria? Sono certo che questo ricorso non è un ricorso contro di me. Probabilmente ci sono delle cattive interpretazioni del regolamento. Se dovesse essere ufficializzato nel coordinamento che cosa farebbe? Il ruolo di Cocella da solo contro il resto del partito quale sarebbe? Se è contro comunque insieme al resto del partito? Ecco, punto primo, a Cocella assolutamente non è contro, né il partito né nessuno. Perché nel 2007, quando il presidente Berlusconi ci chiese, nella loro Forza Italia, di raccogliere le firme contro Prodi, io ero come tanti altri amici della nostra mozione sotto i nostri banchetti, nella sera in cui Berlusconi decise di sciogliere Forza Italia e costituire il popolo della libertà, noi eravamo con il nostro banchetto davanti al cinema Medusa, quindi credo che contro il PDL ci possono essere tutti, ma non Vittoria Cocella.